Hai vinto l'ultima gara per 2-1 contro l'Accademia Trapani, ti chiedo che gara è stata e soprattutto se questo successo è importante dopo un periodo che non riuscivate a trovare la vittoria. Allora è stata una partita molto combattuta, di più che sul piano fisico, sul piano tattico è stata messa e gli avversari erano molto forti, infatti nella scorsa partita avevano pareggiato col calcio Sicilia. Comunque abbiamo giocato molto bene, ci sono stati alcuni minuti dove abbiamo lasciato un po' con la mano e loro ci hanno segnato. Sei soddisfatto di questo inizio di campionato della tua squadra o pensi che potevate fare qualcosina in più? Di sicuro potevamo fare qualcosina in più perché abbiamo lasciato punti da qualche parte, con la stella di gente potevamo fare meglio, con il CEC ci hanno segnato all'ultimo, abbiamo sbagliato il rigore, di sicuro potevamo fare molto di più. A livello personale invece sei soddisfatto o anche in questo caso ti aspettavi qualcosina in più da te stesso? Anche in questo caso di sicuro mi aspettavo qualcosa da me stesso, poi anche qualche gol di sicuro lo voglio fare, ma ancora c'è tutto un campionato.